Per Mario, per te, questo prego è da una freestyle, siete pronti per essi, siete pronti per essere, direttamente sono io, uno, due, tre, presi, uno, due, tre! Allora, bella gente, come resta, è bravo, vuoi che ci sarà a fare di gridare, fa un applauso, ma è una grande capacità che fa un attimo, sono stati in tutti i giorni per i piedi, per le ruote, ma sono stati insieme e lavorano a mangiare sentire. Allora, bella gente, io mi faccio notare con un combinatismo, però debito in Attention a me è un根 ailia, non abbiate quello che libero, ma è una risp Mystica che chi si fria, io non veco per uspenda della categoria, sono statitoni, sono stati in post-t 하겠습니다, faccio la suaованana giro, faccio i piedi a migliaio sia, quando ho fatto coperto a primi nulla uscIT, via, tanto abatto su primando içaranzia. Grazie mille! Sì, è oh oh oh! Sì, è oh oh oh! No, 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 no! No, 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 no! Questo è il мало come di tassi di posta, che siete scingati da verta è la vostra storia! Ci sono i 1 micchi nel posto, da tutti mi ritorno. Fai a difendire un posto di 1 micchi! No! Guardate, non ho detto in pausa, io ho detto in 1 micchi! Dice il rischio di controlla.